guarda lui tu arrivi lui adesso tu ci telefoni è arrivato lui sta qua e tu fai un atteggiamento nervoso giusto? poi lui arriva, ti saluti, ma velocemente diciamo cosa mi hai portato tu con la faccia, no? subito ti siedi, tu siedi qua guarda la macchina la tenere è pronta